Farò una relazione dal titolo I primi mille giorni di vita nell'era dell'epigenetica e ricordo anche si faccio partire io e adesso va e ricordo anche che la dottoressa ha scritto un libro pubblicato l'anno scorso i mille giorni mille giorni di vita dal concepimento non so se anche oggi è presente no vabbè non è fuori non è fuori ma lo presenterai allora aspetta che vado la tua relazione quindi allora oggi io in realtà l'aspetto emozionale lo volevo perché ci tenevo tanto a presentarvi la cellula più importante per questa scienza che allunga la vita cioè c'è una cellula che è essenziale vai ok va bene intanto vado a braccio poi semmai recuperiamo le diapositive perché altrimenti ritardiamo troppo siamo leggermente in ritardo vediamo chi mi può anticipare secondo voi qual è la cellula più importante per una vita lunga per un allungamento della vita cellula umana vai lo vocita i signori maschietti oggi mi perdoneranno se sarò un pochettino di parte in realtà anche io e quindi chi lavora con l'inizio della vita capisce bene che se lo vocita che viene prodotto adatto a me andare avanti perfetto non è in salute non partono proprio neanche questi mille giorni ricordo che i mille giorni sono dal concepimento la gravidanza che conta per 270 giorni e i primi due anni di vita del neonato che conta per 730 giorni circa ok ed è qui la presenza della cellula speciale che è l'ovocita perché lo vedremo anche quanto nei confronti anche della cellula a controparte che è altrettanto importante anche perché domani è la festa del papà altrimenti poi mi picchiano però è importante la salute di questa cellula cellula che è la più grande cellula che abbiamo nel corpo umano 100 micron metri ed ha dentro di sé grazie a un assetto di organoli molto importanti altro che mitocondri voi ricordatevi che tutti i mitocondri che voi avete nelle vostre cellule derivano dalla vostra mamma e dobbiamo ringraziarle perché io non oso immaginare che i mitocondri abbiano passato ai professor Spaggiari a professor Soresi le loro mamme ragazzi tanta tanta roba ringraziamo le donne che passano dei mitocondri in salute e da parte dello sperma quindi da parte del papà arrivano solo tra virgolette solo eh ragazzi però l'assetto cromosomico ma la vitalità e il citoplasma è tutto nella cellula uovo cellula uovo che io vi vorrei ricordare che viene bloccato già prima della nascita della neonata nella prima fase della meiosi ovviamente i gametti si dividono per meiosi e non per mitosi perché devono dividere il loro assetto quindi sono cellule haploidi e non diploidi bene però voi dovete sapere che l'ovocita si blocca non so se questo fa il puntatore sì si blocca nella prima divisione meiotica nella profase che in realtà è il momento in cui i 46 cromosomi di cui l'ovocita primario è formato vengono raddoppiati quindi in realtà noi blocchiamo gli ovociti per anni quindi dal 5-4 mesi prima di nascere ai 10-12-14 anni che è l'età media della menarca e in realtà poi quelle cellule rimangono bloccate anche fino ai 50 anni cioè fino alla menopausa vengono bloccati quando esprimono 92 cromosomi quindi immaginatevi quanto materiale genetico è a disposizione di tutte le cose genotossiche epigenetiche epigenomiche quindi qui rapidamente l'ovogonia si divide per mitosi e qui ai primi mesi di gravidanza alla fine della gravidanza si formano gli ovociti e l'ovocita primario che è ancora diploide rimane fermo fino alla pubertà ma molti di loro rimangono fermi fino a 50 anni quindi quando un ovocita viene fecondato a 40 anni ha 40 anni e 4 mesi quando un ovocita viene fecondato a 20 anni ha 20 anni e 4 mesi quindi questo fa davvero la differenza vabbè la meiosi nello spermatozoo forma 4 cellule completamente abili e equivalenti e nell'ovocita invece proprio perché è importante formare una cellula con tanto citoplasma tanti mitocondri tanti organelli che diano l'energia vitale per la partenza della vita cioè l'energia per fare un individuo c'era l'ovocita una donna nasce con milioni di ovociti e solo 400 500 poi vengono portati a maturazione nel 1843 c'è stata la prima documentazione del contatto della fecondazione da parte di uno spermatozoo con l'ovocito ed è molto invece più recente il fatto di essere riusciti a fotografare quell'evento e questa cosa mi dà tantissima emozione pensare che il gruppo della dottoressa Woodroff ha ben dimostrato come il primo segno visibile della nascita di un nuovo individuo sia una scintilla questo avviene grazie al fatto che la cellula uova che sia ben supportata da ioni zinco che vengono preservati praticamente in vescicole di zinco al momento della fecondazione che vi ricordo che è il momento esatto in cui si finisce anche il processo della meiosi quindi l'ovocita matura solo se fecondato ok ed emette questa fluorescenza questa scintilla che avviene attraverso una esplosione di ioni zinco ok quindi già immaginatevi io uso quello che avete sentito in tutta la giornata io lo applico alle coppie che cercano figli soprattutto a me arrivano molte coppie che non riescono a rimanere incinta e un sistema come quello dell'S Drive che mi documenti che lo zinco intracellulare perché non è neanche facilmente dimostrabile la carenza di zinco ok perché noi non andiamo a cercare lo zinco ematico come diceva oggi Marcus Tantum è diverso ciò che circola nel sangue da ciò che è dentro nella cellula e negli ovociti lo zinco deve essere intracellulare perché noi abbiamo ben dimostrato che sono gli ovociti che sono ricchi di zinco che riescono a fare questo processo di maturazione fino alla blastocisti perché quelli che emettono poca florescenza non vanno a blastocisti non vanno a blastocisti quindi immaginando l'importanza di questa progressione è solo l'annidamento l'annidazione mi piace questa parola che avviene circa 8-9 giorni l'ovocita che viene fecondato e deve dividersi deve essere autonomo non ha contatti non viene nutrito con niente per i primi 10 giorni deve avere l'energia vitale quindi capite l'importanza e questo deriva dall'ovocita non dallo spermatozola sopravvivenza per i primi 10 giorni di vita ok quindi perché però spesso siamo in queste condizioni voi sapete la il rate quindi l'incidenza di successo riproduttivo nei cicli di procreazione medicalmente assistita quando la blastociste viene messa direttamente nell'utero inferiore al 30% ma allora perché se io metto una blastociste formata strutturata spesso che al microscopio appare un embrione buono perché non si attacca bene immaginatevi l'utero della donna immaginatevi tutto quello che è stato detto oggi un utero acido acidosi della matrice extracellulare intossicazione fumo i vari inquinanti immaginatevi alterazioni delle membrane delle delle poter delle delle degli ioni delle espressioni l'energia le vibrazioni ecco perché il nostro embrione non si attacca cioè non c'è un tubetto di colla là dentro con una freccia prendi attaccati è un'attrazione cellulare quello che deve far attaccare l'embrione all'utero ecco qui io accenno proprio a questo è il mio libro dove dicevamo proprio che tutta una programmazione a me piace tantissimo parlare di programmazione fetale che è scritta dentro nei geni ma è come noi riusciamo a leggere quell'informazione che poi rende lo sviluppo embrionale sano e porta alla nascita di una bambina sana e purtroppo questo sviluppo viene a volte disturbato da onde disarmoniche non ne parlo io perché lascio la parola dovete stare tutti ad ascoltare la lezione che mi segue che parla di campi elettromagnetici perché sono super importanti in questa fase ma anche molecole chimiche quasi tutte di sintesi poche naturali che sono ormai riconosciuti come disturbatori spesso detti anche disturbatori endocrini ma non è solo il sistema endocrino è proprio di tutta questa rete pnei perché non sono sconnessi l'endocrino con il neurologico e con l'immunologico e ad esempio facciamo degli esempi allora già dalla sindrome di Down purtroppo noi abbiamo a che fare con questi bambini noi immaginiamo che tutto deve progredire bene ma perché capitano queste cose e il fatto di fare tanti esami in gravidanza noi chiediamo tutti i virus possibili immaginabili chiediamo ancora lassifidi le facciamo ecografie su ecografie su ecografie qui apro una parentesi le ecografie usano ultrasuoni e spesso io conosco colleghi che fanno durare ecografie ore fanno tornare le donne ore ma gli ultrasuoni hanno effetti sul prodotto del concepimento hanno effetti termici effetti anche di cavitazione anche qui non mi dilungo perché non ho tempo ma fa questi esami ci permettono di vedere eventualmente questi difetti noi e amo questo tipo di medicina che stiamo facendo qua oggi dobbiamo pensare alla prevenzione primaria quindi ad esempio parlando di anomalie cromosomiche voi tutti sapete che è legato e questo non lo si nega assolutamente all'età materna anche perché vi ho appena detto che gli ovociti di una donna di 40 anni ovviamente hanno 40 anni 4 mesi quindi tutto l'assetto dei corpuscoli delle capacità di dividersi dei cromosomi è alterato anche dall'età ma è proprio sempre solo l'età perché allora capita la sindrome di Down e non parlerei neanche solo di sindrome di Down la stragrande maggior parte dei bambini con anomalie cromosomiche vengono abortiti nella prima parte della gravidanza e tutti noi sappiamo che sta aumentando tanto l'incidenza degli aborti spontanei aborti del primo trimestre prime settimane le donne sanno di essere incinta e dopo poco scoprono che l'embrione non è vitale beh guardate un po' che cosa ci dice un po' io chi mi conosce sa che sono ahimè un'appassionata ma negativamente ovviamente di alcune molecole e tra queste il bisfenolo di cui conosciamo benissimo proprio a che livello della meiosi interviene e ormai sappiamo anche che interferisce anche proprio con l'allineamento dei cromosomi nella meiosi cioè da cattiva qui chiama spindle architecture interrompe disturba l'architettura proprio della divisione sui sui fusi cellulari dei cromosomi per cui perché non immaginare che le donne inquinate ahimè magari gli ovociti inquinati dal bisfenolo addirittura di quando quella donna che adesso cerca una gravidanza era un feto perché vedremo anche questa importanza di bisfenolo se ne parla tanto questa roba qui che è il decalogo del ministero dell'ambiente dell'istituto superiore di sanità è uscito nove anni fa marzo 2014 e diceva bene che il bisfenolo è una sostanza con effetti estrogenici capace di alterare la funzione tiroidea del sistema riproduttivo nervoso ed immunitario nell'adulto così così danneggia feto e neonato sono molto vulnerabili tant'è che per legge nel 2011 è stato tolto da tutto ciò che è biberon e prodotti per l'infanzia ma per la gravida no cioè le gravide ancora bevono acqua nella plastica perché ovviamente dentro in tutti i packaging di plastica nelle resine possidiche che rivestono internamente le lattine e nessuno glielo dice pochissimi di noi dicono alle gravide non dovete bere acqua nella plastica non dovete mangiare tonno in lattina piselli in lattina mais in lattina perché il bisfenolo se si accumula a livello delle cellule fetali farà un disastro per tutto il resto della vita ok beh per legge è stato tolto anche dagli scontrini da tre anni gennaio 2020 ma sapete con cosa è stato sostituito con il bisfenolo S senza che questo sia stato assolutamente testato però possono scrivere dietro BPA free perché non c'è il bisfenolo A ma hanno messo il bisfenolo S che è ormai purtroppo evidenziato che anche lui è un disturbatore endocrino tant'è che abbiamo questo recente articolo del 2021 che dice non negli ovociti umani che il bisfenolo A e il bisfenolo S entrambi inducono sia disturbi endocrini cre che cromosomici e questo anche è un articolo un pochino più datato perché ha otto anni che hanno diviso gravide che hanno partorito feti normali e gravide che hanno partorito feti malformati congenitamente alcune malformazioni cromosomiche e alcune malformazioni non cromosomiche nell'area nervosa quindi del sistema nervoso centrale periferico per i difetti cromosomici il dosaggio ematico nelle mamme di bisfenolo era tre volte tanto rispetto al controllo per le malformazioni nervose era due volte il livello del gruppo controllo cioè il bisfenolo sembra dare anche malformazioni congenite peraltro ci sono anche articoli divulgativi uno recente sul bisfenolo e la infertilità nelle coppie e colpisce tanto anche appunto i nostri spermatozoi ma che vengono danneggiati anche tantissimo dagli inquinanti su questo appunto abbiamo citato oggi il dottor Montano io vi invito a seguirlo è davvero una potenza e fa capire a tutti noi l'importanza dell'associazione tra inquinamento atmosferico alimentare e infertilità maschile tant'è che lui usa lo sperma come come marcatore dell'inquinamento bene anche le radiazioni possono determinare danni al dinnea spermatico ok e questi danni vengono trasmessi alle generazioni guardate questa bella frase i danni vengono trasmessi ai figli nonostante i tentativi delle cellule uove materne di rimettere insieme i frammenti ecco perché vi dico che l'ovocita sano è davvero una cellula potente per la vita che nasca che progredisca ma che si allunghi perché la cellula uovo è davvero una cellula supereroe perché fa fronte a delle difficoltà enormi oggi come oggi se pensiamo e lascio poi la parola al dottor Gelli a tutto ciò che ci circonda in termini di frequenze di radiazioni cioè il fatto che adesso nascano dei bambini sani io lo vedo come un miracolo per vero ok e qui vabbè qui dice appunto che l'età materna è un fattore molto importante cioè le cellule uovo datate di donne grandi fanno fatica a fare questo meccanismo qui ed è il motivo per cui anche nei percorsi di procreazione medicalmente assistita fanno davvero fatica però c'è una possibilità di aumentare la capacità dell'ovocita di riparare i danni e qui ci sono vado via veloce perché mi picchiata altrimenti però questo è un bellissimo articolo che vi invito a leggere una cosa che a me interessa tantissimo è dire ma noi dentro di noi e ne abbiamo parlato tutta stamattina ma produciamo delle molecole chimiche noi endogene che sono miracolose se lo facciamo è perché ancestralmente il nostro corpo comunque veniva esposto a fattori di stress cioè noi non possiamo pensare che oggi è tutto schifo e che migliaia di anni fa fosse tutto bello perché altrimenti non avremmo iniziato a produrre reglutazione superossido dismutasi e melatonina guardate il potere della melatonina che protegge la qualità degli ovociti dai danni indotti da bisfenolo cioè questo ormai è acclarato che il bisfenolo danneggi gli ovociti ma chi produce bene la melatonina protegge i suoi ovociti e oggi un po' poco abbiamo parlato di sonno però qualcuno l'ha sottolineato il sonno le donne che vogliono un figlio devono dormire bene non devono addormentarsi troppo tardi non devono tenere schermi illuminanti per troppo tardi il ruolo della melatonina è un antiossidante per il follicolo protegge dai ROS e migliora il grado di fertilizzazione cioè la melatonina è molto utile nel processo della fertilizzazione piccoli altri esempi importanza della nutrizione materna chi è che non sa che la carenza di acido folico ci può fornare questi bambini o queste cellule zigotiche cioè lo zigote prima di attaccarsi all'utero della mamma era perfetto le informazioni che hanno portato a questi difetti non c'erano non è una roba genetica questa è pura epigenetica è stata la carenza di una vitamina nel sangue materno che purtroppo ha danneggiato in modo serio la formazione di questi bambini beh adesso poi mi permettete una polemica io non so se verò cacciata da questo gruppo da voi ma io devo fare dei nomi ovviamente la principale formula per integrare l'acido folico nelle gravide sarà perché costa poco che sarà che negli ospedali c'è solo questa nome commerciale che ha 5 mg di acido folico quando la dose raccomandata nella fase preconcezionale è 400 microgrammi ma soprattutto non è metilato ok e in tutte sono tante le donne che hanno la mutazione dell'enzima che poi metila l'acido folico per renderlo attivo che è l'MTHFR dare questa non ha nessun senso io ho personalmente avuto un feto con anencefalia in una donna che mi ha giurato che prendeva la folina per mesi ma più di tre mesi prima del concepimento ma ovviamente non ha avuto nessun nessun senso avergli dato la folina perché peraltro nessuno gliel'aveva chiesto gliel'ho chiesto io era ovviamente mutata in modo omozigote per quell'enzima lì ma in più guardate un po' perché noi e qui mi rivolgo a tutti voi quando diamo anche integratori non diamo solo la molecola non diamo solo il principio attivo diamo un sacco di eccipienti e voi non vi rendete neanche quanti eccipienti e in questo caso ad esempio diamo una dose di titanio di ossido ogni giorno per tutta la gravidanza per tre mesi prima per tre mesi dopo il titanio di ossido per detta stessa dell'ente europeo per la sicurezza della cosa è un prodotto fortemente sospetto di essere genotossico cioè epigeneticamente negativa mi danneggia la lettura dei geni non sto parlando di danni come quelli che abbiamo visto con la talidomide i bambini nascono sani ma poi hanno tutta questa serie di difficoltà epigenetiche cioè gli alteriamo un po' la costituzione della lettura dei geni parlando di nausea in gravidanza sapete cosa diamo adesso un altro nome commerciale principio attivo che non hanno gli effetti collaterali della talidomide ma vedete anche lei titanio biossido oggi mi ha appena scritto una paziente eh ma perché il mio medico di base mi ha dato il tardifer un altro integratore che c'ha dentro il biossido di titanio quindi voi sapete che poi va anche a dosi no per cui se io ad una gravida nella fase embrionale del bambino do quattro questa si dà a quattro molecole al giorno quattro molecole di inupera una molecola di folina una molecola di tardifar e quanto biossido di titanio gli do a questi embrioni questi sono fattori epigenetici impatto dell'esposizione materna ai tossici ambientali e qui affronto l'argomento dell'autismo è un argomento enorme non ci basterebbe tutta una giornata per cui mi scuserete se sono limitata e ci sono molti altri fattori che concorrono all'autismo ma questo è la più forte evidenza dell'epigenetica perché non è solo genetica ok è molto epigenetica tant'è che ormai escono proprio questi articoli che dicono dobbiamo cambiare il paradigma anche oggi parlavamo l'epigenetica hanno visto l'incidenza dell'autismo vicino alle industrie che sono che inquinano il terreno di arsenico piombo mercurio ok quindi gli inquinanti questo è un articolo che invito tutti è recentissimo 2022 novembre scritto da Panisi e Burgio i nostri due più grossi esperti di epigenetica ok bellissimo leggetelo parla proprio di FITAL PROGRAMMA parla di mille giorni e tira fuori questa tabella in cui dà tutti i fattori che aumentano il rischio di autismo e i fattori che lo proteggono invece che proteggono l'allattamento al seno il più forte di tutti ma anche la supplementazione di vitamina D di acido folico di melatonina di pufa di ferro certo non inquinate però poi guardate quanto è frequente oggi come oggi che magari una donna di età avanzata si sottoponga a fecondazione assistita magari ero obesa o fortemente sovrappeso abita in una zona dove c'è traffico inquinanti mangia frutta e verdura ricca di pesticidi poi magari c'è la tiroidite autoimmuni e poi magari assume quante donne prendono questi farmaci e poi ovviamente visto che ha 40 anni non possiamo farla partorire in modo naturale sia mai glielo dobbiamo indurre se non programmare un taglio cesario d'amblè ok e però signora dopo due giorni il seno fa male c'ho la ragade e non ha latti e poi dopo ci stupiamo che abbiamo i bambini autistici anche se tutto questo in realtà era già scritto da qualcosa come 16 anni gli articoli che parlavano di metalli di pesticidi di virus e poi ricordiamo il microbiota intestinale e poi vabbè questo era per passare la palla al mio amico Alessandro che ce ne parlerà anche questo guardate la data di questo articolo non è certo per portarvi l'ultimo articolo lui vi porterà gli ultimi articoli ma per farvi capire che di queste cose se ne parla da anni ma ancora nessuno fa cose realmente quindi questo è un articolo del 2011 per dirvi che sono passati 11-12 anni e si parlava di arsenico di fumo di sigaretta di ftalati di bisfenolo e questa è la mia ultima diapositiva perché questo articolo peraltro è il primo anni fa che parla che questi danni raggiungono anche la terza generazione proprio perché quando una mamma partorisce la sua bambina femmina magari fumando o mangiando cibi inquinati non solo fa la bambina che ha dei danni epigenetici ma sta componendo e sta già mettendo come vi ho detto agli inizi in meiosi prima fase gli ovociti di quella bambina quindi sta aumentando il rischio di danni epigenetici anche a sua nipote quindi vi prego davvero aiutatemi la mia scopo adesso è i miei anni che mi rimangono spero che i metocondri della mia mamma siano forti come quelli dei due professori qui ma la mia missione esatto la mia la mia mission è proprio quella di divulgare che queste due cellule sono fondamentali perché il mondo vada verso un mondo di salute io devo dire che sto usando questo tool proprio nelle coppie infertili o nelle coppie poli abortivi e mi sta dando un sacco di soddisfazione sì grazie 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 grazie